Ci ritroviamo nel liceo classico per la notte nazionale del liceo classico. È una bellissima iniziativa partita un po' in sordina, ma grazie al web ha un po' contagiato molti licei italiani, tra i quali il nostro. Lo scopo è quello di restituire dignità e valore ad un liceo classico che in questo periodo è oggetto di giudizi negativi da parte di detrattori e di disaffezione da parte delle nuove generazioni. Non è un caso che sia stato portato addirittura in tribunale, per fortuna assolto, grazie forse alla arringa efficacissima di Umberto Eco. Ci auguriamo attraverso la notte bianca, che sembra una sorta di legittima occupazione dell'istituto, ma un'occupazione questa volta culturale, di poter dimostrare che il liceo classico non è il regno dei morti, ma il liceo classico è vivo e alimenta teste ben pensanti di tanti ragazzi anche oggi. Tanti laboratori organizzati dai ragazzi, quindi un grazie va anche ai rappresentanti dell'istituto. Un grazie grandissimo ai docenti. Ci tengo a sottolineare che, ahimè, la decurtazione del fondo di istituto non ci permette di incentivare le attività pomeridiane, per cui i docenti hanno lavorato senza alcun incentivo, senza alcun onere per la scuola. Un grazie grandissimo ai ragazzi che manifestano in queste occasioni tanto entusiasmo, tanta passione per le discipline che studiano. I laboratori di quest'oggi non sono altro rispetto al loro percorso di studi, sono delle attività che rendono vivo tutto quello che studiano.